San Alex, nessuno può eguagliarci. Già ci immagino alla Cyber Gold che cantiamo insieme. No, no, non parlarmi di quella festa, per favore. Io non capisco che cosa stia passando per la testa a Marcos. Insomma, perché vuole che quella ragazza via, canti? No, non accadrà mai, non lo permetterò. No, non lo permetteremo, siamo uniti su questo. Hai già un piano? No, ancora no, ma mi verrà in mente qualcosa. Ciao, vi interrompo. Cosa c'è, Mara? Vorrei chiedervi un favore. Sto per lanciare un video sul mio canale, in cui apparirò per la prima volta in video. E questo che cosa ha a che fare con noi? Vi volevo chiedere se potete aiutarmi postando una foto o un video nelle vostre storie e taggarmi. Mara, Mara, ti avevo detto di non affrontare questa impresa, ma non ti piace darmi retta. Io ti aiuterei, ma non posso. Perché? Perché sono molto occupata, molto, troppo. Però, ovviamente, quando avrò tempo, ti avviserò. Ma... Ma... Sembra che tu sia rimasta sola. Non tanto. Iandino ha detto che mi aiuta. Iandino ti aiuta? Dove vai? Non vuoi una mano? Ma... Pensavo che tu non volessi. Come potrei non aiutare la mia amica Mara? Grazie. Ciao, megagente. Ho una raccomandazione per tutti voi. Ho una raccomandazione per tutti voi.